Bene, eccoci qua con l'ennesimo studente anonimo dopo un corso dal vivo di, in questo caso, cinque giorni e quindi raccontaci un po' un attimo qual è l'altro punto di partenza studente anonimo e perché hai fatto un corso, un attimo qual è l'altro punto iniziale? Sì, conosciuto il mondo della soluzione all'incirca due anni fa, due anni prima di fare questo corso, all'inizio come tutti pensavo che non ci fosse bisogno di, diciamo, approfondire con un corso comunque queste cose così. Tanto dicevo, vabbè, esco e provo, esco e faccio da solo, ma mi sono reso conto che avevo l'ansia d'approccio come il 99% delle persone che staranno guardando questo video. Così ho detto, il momento in cui ho detto a me stesso che, ho detto a me stesso che praticamente non potevo fare nulla da solo, avevo bisogno di qualcuno di capace. Mi sono rivolto a approccio alla punto it, ho chiamato gli assistenti di Luca, ho fissato un corso dal vivo con Luca di cinque giorni. Devo dire che è stata un'esperienza unica, perché fino al primo giorno di corso avevo fatto solo tre approcci diretti in praticamente due anni. E' naturalmente andati male. E il giorno stesso abbiamo iniziato con il lavoro sulle paure. Dopo un'ora, un'ora due, ero carico pronto. Il giorno stesso, il primo giorno ho preso otto numeri e un istandate. Ok, qua magari senza... Non mi sembrava nemmeno vero, perché per due anni dove studiavo ogni giorno, guardavo, mi documentavo e uscivo. E non ero riuscito a fare nulla. E quindi è stato... Non riuscivo nemmeno a crederci. Ok, questo è stato il primo giorno di corso dove... Il primo giorno di corso, esatto, sì. Un po' di nulla di telefono e anche un appuntamento istantaneo. Il secondo giorno ti ricordi quello che hai preso, quello che hai fatto? Te lo ricordo io. Il secondo giorno ho preso meno numeri, perché... Tanto il tanto, per chi mi segue, sa già, il numero di telefono in realtà non è un risultato. Uno può prendere anche 100 numeri di telefono, ma se tanto poi non li converte in appuntamento, non serve assolutamente a niente. Quindi parliamo più che altro delle ragazze che sono dei risultati un po' più importanti, quindi dell'appuntamento istantaneo in su. Quindi il secondo giorno cosa hai ottenuto? Il secondo giorno abbiamo fatto un instant date e poi in fine serata un appuntamento con una ragazza che avevo preso il numero il giorno prima. Ok, e invece il terzo giorno, quindi raccontiamo magari giusto solo quelle più importanti, perché ci sono state su... Adesso non so quanti appuntamenti istantanei abbiamo fatto, non lo so, penso forse... C'è il bianco davanti, possiamo anche contarli. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette appuntamenti istantanei in cinque giorni, più anche due primi appuntamenti. Quindi raccontiamo soltanto quelli più importanti, quelli dove sei arrivato al bacio, dove potrei anche portarti a casa. Ma questi sono altri discorsi, quindi il terzo giorno... Il terzo giorno, il terzo giorno, istantate con ragazza 18enne modella polacca. Sempre il terzo giorno un secondo, appunto, un secondo istantate con una ragazza di 28 anni che lavorava a Milano di origine albanese. E poi, terzo istantate, più cambio di location, più bacio. Questo magari raccontiamo un po' più nel dettaglio, visto che sei arrivato fino al bacio. Con una modella di 23 anni approccio questa ragazza, non parlava italiano, abbiamo parlato con Google traduttore. E l'invito, vedo che era libera, l'invito per un istantate. Andiamo nella prima location, nella location che si utilizza di solito per gli istantate. Per chi non sapesse cosa è un istantate, è un appuntamento istantaneo. Escalation fisica, di cui Luca mi aveva spiegato, mi aveva detto di provare nei giorni prima con gli altri istantate, di cui io non avevo il coraggio di fare. Ma già il terzo giorno ero più sbloccato, così faccio una buona escalation fisica con questa ragazza e già all'istantate, alla prima location, arrivo al bacio. Detto così sembra tipo una cagatina, però effettivamente io mi ricordo, anche io ormai lo considero una cosa banale, scontata, però mi ricordo ai tempi svariati anni fa che effettivamente conosce una ragazza sconosciuta e nel giro di un'ora di giorno per strada arrivare al bacio non è effettivamente una cosa così banale. Sì, sì, esatto. Facciamo cambio di location e di nuovo lì si riprende con escalation fisica, bacio, eccetera. Luca mi dava supporto tramite consigli tramite messaggi, fai l'invito, invito per andare a casa e a un certo punto scopro che lei doveva tornare a casa, il padre aveva una chiamata importante con il padre che era vero perché mentre eravamo insieme le arrivavano queste chiamate del padre e lei chiudeva la chiamata perché era con me. A un certo punto mi fa, siccome si erano fatte un certo orario, mi fa guarda devo andare a casa, devo parlare con mio padre, eccetera. E niente, ed è finita lì. Ok, e il quarto giorno di corso invece? Il quarto giorno di corso, ragazza stand date con ragazza argentina. Fidanzata. Fidanzata, che io pensavo che lei mi avrebbe rifiutato perché era veramente, ma veramente carina. Cioè ragazza bionda, fisico perfetto, pantaloncini, aveva i stevaletti con il tacco, cioè veramente carina. Luca mi fa vai, io faccio vado, tipo come per dire vabbè vado. E invece no, subito segnale di interesse, faccio l'invito per l'instant date, andiamo in instant date. Nell'instant date scopro che è fidanzata, Luca mi fa, ok è fidanzata, non farti destabilizzare, prosegui con l'escalation fisica, ma non fare il bacio. Perfetto. Provo il bacio nella seconda location. Non ho ascoltato a Luca. Andiamo nella seconda location, quindi ho fatto l'instant date. Specifichiamo questo per chi non lo sa, con le ragazze fidanzate, per quanto possa sembrare assurdo alle persone, le ragazze fidanzate danno più valore al bacio rispetto che al sesso. Quindi se stai facendo un appuntento con una ragazza che è fidanzata, molto probabilmente di solito non si fa baciare, ma ciò non significa che non puoi portarla a casa e farci sesso. Quindi per quello avevo consigliato allo studente anonimo di non fare il bacio, che però hai provato a fare lo stesso. Quindi prego, vai avanti te. Esatto, esatto. Io nella seconda location, perché poi l'ho spostata nella seconda location, non ho voluto, è arrivato a un certo punto perché vedevo, non lo so, eravamo insieme da due ore, tre ore, ho detto vabbè provo il bacio. Provo il bacio, le esistenze cambia completamente la situazione, inizia a dire ah ma noi siamo solo amici e cose del genere. La situazione lì è cambiata e niente, siamo usciti dalla location e è finita lì. Ma per mio errore, Luca mi diceva fai l'invito. E io dicevo no Luca, ho paura. Ho paura perché comunque la situazione era alquanto strana, la ragazza era finanziata. Non lo so, volevo arrivare al bacio perché inconsciamente forse volevo un'approvazione, un'approvazione chiara da lei per poi fare l'invito a casa. A livello inconscio sarà stato così. Ok, e poi alla fine del quarto giorno cosa hai fatto? La fine del quarto giorno abbiamo fatto l'approccio alla ragazza iraniana? No, no, quello era il quinto giorno. Hai fatto l'appuntamento con una delle ragazze conosciute il primo giorno. Ah sì sì sì, esatto, esatto, sì sì sì. Dopo questa ragazza argentina aveva un appuntamento fissato il quarto giorno con una ragazza di cui avevo preso il numero il primo giorno. Abbiamo fatto, siamo andati nella location, lì escalation verbale, di cui Luca mi aveva detto, mi aveva spiegato spingi sull'escalation verbale, non censurarti, porta la comunicazione su uomo o donna. Siccome io erano i primi giorni che facevo questo, ero un pochettino frenato e quel giorno lì mi sono, ho seguito i consigli di Luca e ho portato la comunicazione più sul piano uomo o donna. La ragazza nella location non si è fatta baciare, sono arrivato solo al bacio sulla guancia. Questo perché lei aveva poca esperienza con uomini, infatti dopo che siamo usciti dalla location mi ha confidato di essere vergine. La tipa poi si è fatta baciare fuori. E potevi anche portarla a casa, ma questa è un'altra storia. Sì, sì sì sì, esatto. Questa ragazza che poi l'hai rivista anche nei giorni dopo il corso con un secondo appuntamento, anche lì potevi riportare, avevi la seconda occasione di portarti a casa. Sì sì sì, sempre per una questione di paure, perché comunque sono principiante, altrimenti se fossi stato già capace non avrei fatto il corso con Luca. Anche per una questione di paure, perché come dice Luca, ogni step, c'è la paura da superare, nel senso, prima c'è l'ansia d'approccio, poi la paura dell'invito, poi la paura del contatto fisico, poi la paura del bacio, poi la paura dell'invito a casa. E quindi lì c'era questo blocco da superare, la paura dell'invito a casa. Poi l'avrò fatto, sì l'ho fatto, ma ha fatto male, perché Luca mi ha detto l'invito a casa è un'arte. effettivamente devi trovarti nella situazione in cui puoi allenare l'invito a casa. Che in realtà poi alla fine, nel primo appuntamento che avevi fatto durante i cinque giorni, in realtà l'avevi fatto l'invito a questa ragazza, ti aveva anche detto di sì, semplicemente poi era mancata un po' di convinzione tua nel portare a casa, perché lei alla fine ti aveva detto di sì per l'invito. Arriviamo all'ultimo giorno, che era il quinto giorno, dove? Cosa hai fatto? Quinto giorno, oltre a quell'approccio, cosa hai fatto? Hai fatto l'appuntamento istantaneo con la ragazza lì davanti ai militari. Sì, ottimo, ottimo. Abbiamo visto una ragazza che camminava sola. Luca mi fa vai. Mentre mi stavo per avvicinare, lei va a sedersi, diciamo, dove c'è ora, va a sedersi sul gradino di una vetrina, dove di fronte c'erano i militari con il fucile in mano, che la guardavano, perché la ragazza naturalmente era sola, era carina, e loro la guardavano, eccetera. Luca mi fa, ci sono i militari, vuoi andare? Mi faccio sì. Proviamo, dato che ormai erano, cioè non sentivo l'ansia d'approccio dal primo giorno praticamente, o dal secondo. Quindi ho detto, magari la situazione è difficile, vediamo se ce n'è ancora un pochettino e la sento. Zero ansia d'approccio, vado lì, excuse me, you speak English, prendo Google telefono, Google traduttore, scusa, non volevo spaventarti, e Luca mi fa, se ci sta, siediti, dopo un minuto, siediti vicino a lei. Lei, vedo che mi dava segnali positivi, mi siedo, dopo un minuto mi siedo lì, e parliamo, vedo che era libera, vedo che aveva il tempo a disposizione, dopo tre minuti, quattro massimo, faccio l'invito per l'instant date, e mi alzo, mi alzo, senza, cioè mi alzo senza avere la sua risposta prima. Mentre io mi alzo, lei mi dice, no ma sai sono stanca, devo continuare a fare shopping, mentre dice queste parole, lei si alza e inizia a seguirmi. E niente, la porto in instant date, e tutto questo davanti agli occhi dei militari che mi guardavano, secondo me, con un po' di invidia anche. Perché io con... Lo specifichiamo anche che tanti sono sempre segati nel cervello, ma non si può approcciare, stai disturbando, e te le varie minchiate, non succede assolutamente niente. Non è che stiamo andando lì. Non è successo assolutamente niente, non è successo assolutamente niente. Luca mi ha detto che i militari mi guardavano, però io, mentre ero lì nella situazione, sul campo, non li ho considerati proprio, cioè non erano un problema per me. E questo si è riflettuto sulla ragazza, nel senso, siccome non era un problema per me, non era nemmeno un problema per lei. E infatti mi hanno seguito in instant date, dopo quattro minuti, cinque massimo, e andiamo in instant date, andiamo nella location, lì abbiamo fatto... ho fatto contatto con il fisico, ero già più sbloccato, perché era il quinto giorno, e un errore, paradossalmente un errore, che mi ha poi segnalato Luca, era il troppo contatto fisico, l'insistere nel... non lo so perché... ho fatto troppo contatto fisico, nel senso che... Luca mi fa... eh ma eri un po' insistente, ero diventato sbloccato e niente, è qui. Poi la ragazza... No, quella è semplicemente un errore tipico... Da principianti, sì. No, ma non è neanche tanto da principianti, è successivo. Come è il fatto del bacio, quando fai il bacio, la prima volta che poi baci troppo la ragazza, come spieghi tu di solito. Sì. Più o meno è stato quello. Ok, e adesso qua stiamo registrando questa, diciamo, video intervista, praticamente a distanza di una settimana da quando è finito il corso di cinque giorni e a vedere un po' come va a livello di ansia d'approccio. I primi giorni, i primi uno o due giorni di corso al vivo c'era molta ansia d'approccio, abbiamo lavorato su ansia d'approccio, in approccio alla continuita utilizziamo appunto un metodo per andare a rimuovere definitivamente le paure, anziché temporaneamente. Dopo il corso al vivo ti sei dedicato qualche giorno tu anche in autonomia per approcciare da solo per conto tuo. Com'è andata? Ma racconta un po' a livello di ansia d'approccio, com'è andata? Sì, io prima di fare il corso avevo una paura, un'ansia d'approccio tremenda, cioè al solo avvicinarmi a un ragazzo oppure la sentivo, sentivo l'ansia d'approccio in un modo, infatti non è stato difficile farlo uscire fuori. A Luca gli dicevo, quando facevamo il lavoro sulle paure, mi diceva Luca come ti senti? Eh, la sento, la sento l'ansia. Io non fumo, quindi non fumo, non bevo, quindi diciamo non ho paure soppresse. Non mi è stato difficile sentirla e quindi farla fuoriuscire quest'ansia già il primo giorno, già le prime ore in cui abbiamo fatto il lavoro sulle paure. Ok, e come ti senti adesso? Cioè come sono andate le sessioni in cui hai approcciato da solo dopo il corso? Cioè sei riuscito ad approcciare subito? Sentivi ansia? Allora, il primo giorno, finito il corso, finiti i cinque giorni, sono uscito solo, a Milano sempre, e le prime due ragazze che vedo che potevo andarci ho esitato, ma non per ansia, ma per la situazione in cui ero solo. Non c'era Luca che mi, diciamo, dirigeva, che mi mandava alla ragazza a fare l'approccio e quindi ti poi ha esitato un po'. E però ho detto l'ansia non c'è, quindi devi andare, devi farlo da solo. Ok, vado, approccio una ragazza più alta di me, siccome io non sentivo l'ansia, ho detto, devo trovare una situazione in cui sento di più l'ansia per vedere se c'era, ma non c'era. quindi vedo una ragazza bionda alta, vado, approccio. Lei era completo disagio perché era disagio, si trovava sola a Milano, era una modella messicana. Infatti, quando mi ha detto sono una modella, faccio una modella messicana e sono del Messico, io ho detto ma cosa c'entri tu con i messicani se sei alta, bionda, con gli occhi azzurri, i messicani e niente, poi me le fai ho origini italiane, va bene, tutto ok, prendo il numero e niente. Finita lì, ero contento perché non sentivo l'ansia, l'approccio era andato bene, ho proseguito in quella giornata, ho fatto un altro approccio con un'altra ragazza che era del Portogallo, faceva la ballerina e doveva fare uno spettacolo a Milano, non, sì, anche in quel caso non ho sentito l'ansia, non ho sentito l'ansia, ma in tutti i quattro giorni che ho proseguito da solo non ho mai sentito l'ansia, non ho mai sentito l'ansia. Possiamo dire che l'abbiamo rimossa, magari un pochino c'è ancora, non lo so, non so effettivamente tu come ti senti personalmente. Sicuramente, sicuramente se io mi fermassi qualche giorno, all'inizio sentirei un po' di ansia, sicuramente, perché ancora, giustamente come dici tu, l'ansia si può abbassare da 100, si può abbassare a 10 subito, nei primi giorni, ma poi per portarla a zero ci vogliono anni, mesi, mesi, anni. E sicuramente se io mi fermassi qualche giorno potrei risentire l'ansia, ma non penso, cioè non ho intenzione di fermarmi, quindi per me la situazione in cui mi trovo ora è ottima. E a livello di risultati che hai ottenuto nei quattro giorni che ti sei fatto per conto tuo a praticare dopo il corso? Quanti punti di stanza? Facevo tranquillamente uno, due stand date ogni giorno, ma tranquillamente anche con cambio di location, quindi ad esempio ho approcciato una ragazza brasiliana in galleria, lei era appena arrivata a Milano doveva visitare, quindi la situazione era, la situazione logistica era favorevole, l'invito in stand date, andiamo in stand date, faccio, siamo usciti dalla location, faccio l'invito per la seconda location, mi seguo nella seconda location, ottimo, cioè nel senso ormai sapevo avevo la strada, sapevo già la strada da solo, perché Luca se ti ricordi i primi giorni facevo fatica a trovare le location mentre portavo la ragazza perché io e per me era la prima volta a Milano e Luca mi fa queste sono le location, mi fa vedere le location, ok, un conto è Luca che mi porta nella location, un conto è io poi da solo portare la ragazza nella location, c'è stato qualche problemino, ma già dal secondo giorno non avevo più questi problemi logistici, infatti nei giorni in cui ero solo, ho utilizzato tutte le location a disposizione che mi hai insegnato tu, che mi hai fatto vedere tu. Ok, ecco, considerazioni finali, cosa imparate, messaggi che vuoi dare a chi sta guardando? Allora, un messaggio che vorrei dare a chi sta guardando questo video, se come me con quanti anni hai? Sì, appunto, non stavo dicendo, se come me avete meno di 30 anni e volete provare da soli, solo con lo studio, magari, e provare in autonomia, siccome, diciamo, avete tempo da perdere, tra virgolette, ancora, prima dei 30, 35, volete provare? Ok, provate per un periodo, ma se poi dovete, se non avete nessun risultato, se l'ansia d'approccio persiste, fate un approccio ogni, uno alla settimana o uno al mese, prendete il telefono, chiamate gli assistenti di Luca e fate un corso dal vivo, perché il corso dal vivo vi accelera in modo esponenziale i risultati, cioè io sono passato da, anzi, l'approccio totale a fare uno, due instant date tranquillamente, senza pormi nessun problema, proprio addirittura se vedevo che la ragazza gli ultimi giorni, se vedevo che la ragazza era poco propensa a seguirmi in instant date, cioè nel senso la salutavo subito perché sapevo già che dopo due minuti ce n'era un'altra magari disponibile che potevo tranquillamente portare in instant date e e questo ti dà una sensazione di appagamento dentro nel senso che non sei dipendente dalla ragazza perché giorno dopo giorno diventavo capace delle mie abilità e quindi tipo non dipendevo più dalla ragazza come nei primi giorni Luca mi ha fatto notare che ero molto bisognoso bisognoso nei primi giorni mi avvicinavo troppo alla ragazza mi davo il mio linguaggio del corpo alla ragazza per cercare di fermarla per cercare di tenerla lì a me cosa che negli ultimi giorni proprio dopo una decina di instant date e dopo decine di numeri ero già diventato più meno dipendente dal risultato della ragazza cioè nel senso dal da ciò che lei pensava di me poi un messaggio invece per chi ha 30-35 anni e viene a contatto con questo mondo ragazzi se avete 30-35 anni sicuramente avete già lavorato avete dei soldi da parte e non fatevi il cioè non prendete la scusa ma non ho soldi questo non esiste se avete 30-35 anni 40 provate anche voi provate da soli se non riuscite se dopo una settimana un massimo mezzo e non riuscite a concludere niente fate prenotatemi un corso dal vivo con i coach il coach di Luca di approccialo.it perché a maggior ragione non avete tanto tempo voi da perdere a differenza di chi magari ha 20-25 anni e vuole provare da solo oppure dice trova la scusa non ho soldi già lì ci sta un po' di più fate un corso dal vivo perché veramente vi accelera molto i risultati io quello che ho visto io dal primo giorno ad oggi è veramente vedo la ragazza vado zero ansia d'approccio capisco la situazione logistica se è libera l'invito per l'istandate cose che cose che in due anni di autonomia in due anni di autonomia dove ho provato da solo non non ho fatto nulla perché c'era l'ansia d'approccio perché me la mi trovavo scuse oggi piove e tante altre scuse che sicuramente troverete anche voi se ancora siete al punto zero ad oggi io mi trovo in uno stato di tranquillità benessere sono passati all'incirca 12 giorni dal primo giorno del corso non sento l'ansia e non posso fare altro che proseguire in questa direzione continuare a migliorare ogni giorno cioè continuare nel seguire le lezioni gli insegnamenti e le correzioni che mi ha donato Luca in questi giorni di corso e consiglio vivamente a chi vuole intraprendere questo percorso di miglioramento sentimentale con Luca o eventuali coach fatelo assolutamente perché non c'è nulla da pentirsi non c'è veramente nulla da pentirsi o 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.